Buongiorno, ben alzati, ben ritrovati, buon sabato mattina, iniziamo come sempre le giornate con l'informazione, col primo appuntamento con l'informazione, con Fano TV, siamo in diretta, questo è Occhio ai giornali, la rassegna stampa che tutte le mattine vi presentiamo così per iniziare la giornata, ma come di consueto, come sempre facciamo, il santo del giorno e poi le previsioni del tempo, vediamo subito l'almanacco di oggi, sabato 16 luglio, la Chiesa osserva la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, il sole è sorto alle 5.39 e tramonterà alle 20.48 e vediamo subito i dati che ci rimanda la nostra centralina meteo, dati che potrete naturalmente ritrovare e consultare in qualsiasi momento attraverso il nostro sito, basta scorrere sulla destra, in basso troverete il bottone previsioni meteo, cliccate e vedete in tempo reale quella che è l'evoluzione. In questo momento, temperature proprio di pochi minuti fa sono queste, 20 gradi e poco più, però con un'umidità del 50% e quindi la temperatura è confortevole, se pensiamo ai dati dell'inizio della settimana con temperature al di sopra dei 27 gradi e umidità oltre il 75%, capiamo l'evoluzione che c'è stata in queste ore e guardiamo anche il cielo come si presenta in queste prime ore di inizio mattinata, vedete è tutto grigio, tutto coperto, insomma non lascia grande spazio all'immaginazione, vediamo invece cosa ci propongono gli amici della protezione civile e questa è la cartina di oggi per sabato, cielo inizialmente nuvoloso con però progressiva diminuzione della nuvolosità a partire però dai settori settentrionali, quindi insomma quelli che riguardano il nostro quadrante. Le precipitazioni rovesci e temporali ci saranno, sono però appunto come vedete anche nella simbologia nel settore centro-meridionale e sui rilievi in diminuzione ancora i valori minimi stazionari le massime e per domani domenica si va verso il bello, diciamo così, insomma perlomeno scompaiono le piogge, sereno poco nuvoloso, addensamenti residui però vedete il sole fa ampiamente capolino attraverso le nuvole, precipitazioni assenti, le temperature iniziano a risalire e anche il mare si placcherà perché sarà poco mosso anche se in queste ore basta andare in riva al mare, vedete insomma com'è ben agitato, previsioni per lunedì, ecco decisamente serene, poco nuvoloso, tutte le simbologie della cartina lo dicono, nessuna precipitazione e le temperature sono in rialzo, quindi la tendenza già da domani e dalla seconda parte di oggi sarà al bel tempo e vediamo insomma di averla passata questa buriana come si vuol dire che insomma non ha lasciato pochi strascichi e adesso vedremo anche nei giornali, iniziamo dal Corriere Adriatico, vi faccio vedere subito la pagina di apertura e la Coppa Davis è stata la prima penalizzata oltre a tante altre situazioni per queste precipitazioni così copiose e importanti, questa è la pagina di apertura del Corriere Adriatico che dà un po' il menu di quello che troveremo all'interno, Coppa Davis inizia in apnea, pioggia, posticipo e disagi, rabbia anche dei residenti rimasti senza parcheggi, poi si parla naturalmente della tragedia che abbiamo vissuto in diretta su tutte le reti, su tutte le news, in televisione, abbiamo visto di che cosa si è trattato, di quale tragedia immane si è verificata in Francia, a Nizza, tanti sono anche i francesi scampati alla strage e di questo si parlerà anche all'interno del giornale. e poi insomma anche in testa di pagina si parla del calcio, Hubner tifa Fano, resterai a lungo tra i protagonisti, Hubner non scordato Bomber che dà la sua ricetta per il Fano Calcio. Entriamo nelle pagine, ci sono tante pagine dedicate non solo nel Corriere Adriatico ma anche nel resto del Carlino a quello che è avvenuto a Nizza e insomma le storie dei marchigiani che c'erano lì e quindi insomma vedete la foto eloquente di che cosa è avvenuto, sotto gli occhi di tutti la tragedia e le immagini andate in onda molteplici volte sui canali nazionali di quello che è accaduto. qui nel Corriere Adriatico le storie di chi l'ha vissuto in prima persona, Nicole Cameriera per pagarsi gli studi in Costa Azzurra, se non avessi lavorato sarei stata lì, il camion della morte si è fermato davanti a casa di Dimitri, ci siamo nascosti nello spogliatoio. ancora altre pagine, insomma due pagine dedicate all'inferno appunto di Nizza come titola il Corriere Adriatico, altre storie, Marco la fidanzata sui boulevard e sotto shock torno nelle marche, Jessica benedetta gravidanza perché volevo vedere i fuochi ma ci ho ripensato insomma quindi storie che poi troverete ce ne sono anche altre e vediamo appunto i disagi i disagi del maltempo, gli strascichi che ha provocato, si diceva appunto nei titoli la Coppa Davis pesa la sott'acqua, la pesa degli eventi, causa la pioggia inizia solo nel pomeriggio, in mattinata l'odissea logistica per spettatori, traffico in caos nei quartieri vicini alla Baratov, tanta rabbia dei residenti perché sono rimasti senza parcheggi sotto casa. Si parla anche di Fosso Seiore e dell'annoso, insomma puntuale problema dei parcheggi sotto monte, allora a puntare il dito su questa emergenza è la CISL, appunto sulle storiche carenze delle strutture sotto monte, la soluzione è trovare spazio per le auto dei bagnanti ma vanno coinvolte le amministrazioni a Fosso Seiore, parcheggi e non ospedale e poi insomma un po' di ironia anche per l'iniziativa del comune, buoni gelato per chi va in navetta e in bici l'ironia, insomma in orina sull'ipotizzata iniziativa del comune. Però il mare è anche sicurezza, da oggi avremo una sicurezza in più, degli angeli custodi che sorveglieranno le spiagge non servite dalla gestione, quindi insomma quelle libere, mare sicuro, arrivano i CISL sono in moto d'acqua per il soccorso con una speciale barella, rinnovato il servizio che vigilerà il litorale ogni fine settimana e a ferragosto saranno protagonisti di questa bella pagina di soccorso che si tiene nel nostro litorale i vigili del fuoco che hanno firmato una convenzione con i comuni interessati. Sottopasso appunto il maltempo, vi dicevo tanti post maltempo, gli eventi insomma che si sono verificati, sottopasso allagato a tre ponti, bloccata un'ambulanza con un paziente all'interno, vedete auto finite fuori strada, insomma ci sono stati notevoli disagi nella giornata di ieri. Andiamo anche in provincia con le pagine del Corriere Adriatico, siamo a Fossombrone, allarme cinghiari, devastati campi coltivati a girasole, l'appello degli agricoltori si dia subito in via alle squadre di cacciatori per insomma debellare questo flagello, nella foto è abbastanza eloquente il danno che hanno fatto ai campi. Andiamo a Fano, apriamo le pagine del Corriere Adriatico che trattano di Fano, anche qui si tratta di sanità ma di ben altra cosa, non di strutture ma di medici, quelli aderenti allo SNAMI, un sindacato nazionale autonomo dei medici, hanno firmato su un recente protocollo di intesa, spiega il Presidente la firma, il perché di questa firma sul protocollo di intesa per la gestione delle case della salute. Medici dello SNAMI da guerriglia interna, solo così avremo voce in capitolo, nell'articolo parla il Presidente regionale appunto dello SNAMI e spiega il perché di questa firma e di questo protocollo. Ed ora sempre anche a Fano, insomma il maltempo non ha lasciato in columi spiagge e strutture, all'improvviso il mare d'inverno, pioggia e violente raffiche spazzano il litorale, non tutti i bagnini però riescono a salvare l'attrezzatura, in Sassonia le onde mangiano metri di arenele. Andiamo anche nella pagina che riguarda la Val Cesano e anche qui, insomma, le strutture hanno ampiamente documentato le foto su Facebook e sui social di che cosa è avvenuto, il fortino però regge al maltempo. Tavole e sacchi di sabbia fuori dai garage, nessun danno, allarme meteo superato nelle ultime 24 ore, la situazione è stata monitorata da staff di comune e di ASET, siamo appunto a Marotta che insomma perlomeno l'emergenza è stata superata in maniera incolume senza grossi danni. Andiamo a Senigallia, rivoluzione viabilità, scatta appunto il piano, si allarga la ZTL in centro, via Pisecane resta fuori come chiesto dalle associazioni di categoria, weekend però da Bollino Rosso sul lungomare Mameli, ecco tutti i divieti e le modifiche al traffico troverete in questo articolo se vi riguarda qualche cosa, qualche strada, insomma, tutto il nuovo riordino delle strade di Senigallia. Siamo in provincia, andiamo a Saltara che mette in mostra i suoi tesori, presentata l'esposizione di tre mosaici romani nel suggestivo scenario della chiesa del Gonfalone, andateli a vedere perché sono veramente belli e poi in basso si parla di una eccellenza del nostro territorio, la villa del Bali è il paradiso della scienza, più spazi per il museo senza guide ma pieno di esperimenti, ci sarà appunto l'inaugurazione. Andiamo ora a vedere la testata del resto del Carlino che cosa ci propone nell'inserto dedicato appunto a Pesore Provincia, questa è la pagina di apertura, anche qui sfiora l'inferno, salvata perché in Cinta una ventottenne pesarese a Nizza sono rimasta in hotel invece di scendere a guardare i fuochi, anche qui ci sono pagine dedicate ai protagonisti, ahimè sventurati di ciò che è avvenuto a Nizza e poi fotonotizia sul maltempo, piove, la baia è allagata e anche qui maltempo, Coppa Davis nel caos. Nelle pagine appunto interne e anche qui fotografie che documentano insomma quanto è avvenuto sia in spiaggia che in campo, innesca appunto il maltempo, il caos, rinvii, freddo, viabilità difficile ma oggi andrà meglio. Anche qui nelle pagine del resto del Carlino, la documentazione di chi ha vissuto in prima persona la tragedia di Nizza, appunto una pesarese sfiora l'inferno a Nizza, appunto è rimasta in albergo, dovevo andare a vedere i fuochi ma ho scelto di non stare in mezzo alla folla e qui appunto la sua intervista che racconta quanto ha vissuto in quelle ore drammatiche. Fano appunto anche qui nella pagina di Fano del resto del Carlino si parla di maltempo, prigionieri delle auto nel sottopasso, il sottopasso incriminato è come sempre quello del Lido che come vedete diventa un lago e se ci si passa in quei momenti con l'auto ci si blocca nel mezzo e quindi diventa una trappola. Due vetture impantenate, incidenti e frane, tutta la cronaca di queste ore qui nell'articolo del resto del Carlino e poi mareggiate, l'erosione avanza da Metaurilia a Pontessà, sombrelloni sott'acqua, problemi anche alla Baia del Re e a Gimarra, tutto in malora, non vale più la pena la rabbia dei bagnini che insomma sono stati veramente flagellati dal tempo in queste ultime settimane. E poi vi lascio con l'ultima pagina del resto del Carlino che tratta dell'incendio alla Profiglass e insomma il comitato di Bellocchi scrive al sindaco malgrado le rassicurazioni di Arpam e insomma la domanda è chiara, diteci cosa è bruciato alla Profiglass, però insomma i dubbi perché nessun dato alla centralina, la nube di fumo ha preso la direzione opposta quindi non è stato rilevato nulla di che perché probabilmente i sensori della centralina non hanno captato la nube che si è sprigionata dall'incendio della Profiglass. Bene, grazie per essere stati con noi, io mi fermo qui, questa era l'ultima rassegna stampa di questa settimana, Occhi e Giornali torna lunedì mattina naturalmente puntualmente alle 7.30. Buon fine settimana a tutti voi e grazie ancora per essere stati con noi. Grazie a tutti.